In occasione del congresso, che celebrerà il trentesimo anniversario dell'Accademia di Endodonzia a Bologna dal 24 al 26 febbraio, avrò il piacere di coordinare una delle tavole cliniche lunch and earn previste al sabato e intorno all'ora di pranzo. Parleremo di gestione dei canali calcificati, uno degli ostacoli più duri ma anche più frequenti che possono capitare tutti i giorni. Approfondiremo la diagnosi, l'apertura della cavità d'accesso, l'individuazione degli imbocchi canalari, il sondaggio e la sabonatura, insomma tutti gli step per evitare gli errori e ottenere ottimi risultati fin da subito. Perché, come in tutta l'endodonzia poi, il segreto sta nel suddividere il problema in tanti piccoli gradini da salire uno alla volta senza farsi male e cadere. Allora cosa aspetti? Corri ad iscriverti nel congresso Ayan, ci vediamo là! Grazie a tutti!